I provvedimenti di oggi, che poi verranno descritti più in dettaglio dal Ministro Speranza, prevedono un graduale superamento di strumenti come il certificato verde. Il Green Pass è stato un grande successo, perché ci ha permesso di ricominciare, riprendere l'economia. Ricordatevi che l'anno scorso, proprio col Green Pass, l'economia italiana è cresciuta al 6,5%. Quindi siamo riusciti a mettere insieme una economia vibrante, una ripresa della socialità graduale, insieme alla possibilità di essere più protetti, più sicuri, più protetti.